L'associazione volontari per le ocemie, l'infomi. Le nostre attività vado alla mattina all'ospedale in nematologia, vicini agli ammalati, aiutarli, insomma fare robe che occorre agli ammalati, portargli le colazioni, portargli quello che desidera, parlare insieme, stare insieme, aiutarli nelle cose che non possono muoversi magari nel letto. Qui stiamo esponendo tutte le cose che fanno le volontarie a tempo perso, tutti i bei lavori, robette per bambini, sciarpe, per ricavare dei soldi per la casa che abbiamo in via del verme. che ospitiamo in via del verme degli ammalati per fare le cure che vengono portate all'ospedale alla mattina.